Buongiorno a tutti telespettatori di Le Fonti TV ed è con immenso piacere che quest'oggi inauguriamo un nuovo appuntamento del nostro palinzesto, ovvero Focus Franchising, un appuntamento che vuole indagare questo settore e tutti gli aspetti anche di innovazione che lo riguardano. Chi meglio del presidente dell'associazione che si occupa appunto del franchising, ovvero il presidente di Asso Franchising, per inaugurare questo nuovo programma? Infatti con immenso piacere che ho qui con me Italo Bussoli, presidente di Asso Franchising. Buongiorno a voi. Allora, raccontiamo un po' ai nostri telespettatori, innanzitutto, quali sono alcune numeriche legate all'ambito del franchising a livello di fatturato e in termini anche occupazionali? Il franchising è uno strano animale abbastanza ignoto nella generalità, però possiamo anche definirlo con terminologia italiana perché c'è una legge che riguarda il franchising, che risale al 2004 e parla di affiliazione commerciale, dove vi sono due elementi fondanti, l'affiliante, il cosiddetto franchisor, il marchio che crea il sistema di franchising e gli affiliati, i franchisi, che sono i punti vendita collegati, cioè i negozi sostanzialmente collegati a questo franchisor, a questa marca. Quindi partendo da questa base forte, e questa legge disciplina peraltro questo sistema con pochi articoli e ancora meno comma, quindi fantastico. Un unicum. Un unicum, infatti dura dal 2004 e non abbiamo nessuna intenzione per il momento di modificarla. I numeri, lei diceva? Certo, il franchising ha una grande potenzialità ancora di espansione, perché parto da questo numero. Il fatto che il sistema di franchising sia sul totale del sistema distributivo, cioè di quello che vediamo in giro, dei negozi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso, il 7% totale della distribuzione sembrerebbe, ah che numero basso, che percentuale modesta, ma questo 7% produce alcuni numeri veramente significativi. Il numero dei franchisors, cioè dei marchi che fanno franchising, dalle nostre rilevazioni al 2019, perché è dato il 2020 evidentemente, li stiamo elaborando in questi ultimi tre mesi, sono circa 960, cioè aziende che possono definirsi franchising, almeno tre punti vendita attivi. Questi 960 cubano, producono, si allargano su un totale di 56 mila punti vendita, quindi negozi, attività che si vedono, di solito proprio su strada. Infatti le stiamo anche in parte vedendo attraverso le immagini. E' certo, e anche perché nei centri storici, nei centri commerciali, i marchi di franchising si vedono con grande rilevanza. Tutto ciò produce un fatturato importante, assolutamente, di circa 26 miliardi di euro. Allora, questo cosa vuol dire? Siamo a punti 1,3, 1,4, quasi un punto e mezzo di PIL in Italia, quindi questo giro d'affari è particolarmente rilevante. E poi c'è la ricaduta sul piano occupazionale, tra addetti complessivi, cioè dai titolari dei punti vendita ai dipendenti, superiamo abbondantemente i 215 mila e ci avviciniamo più ai 220 mila addetti al settore. Quindi un sistema che non si può trascurare neanche dal punto di vista occupazionale. Un sistema che voi, attraverso l'associazione Assofranchising, cercate di tutelare e promuovere. Ecco, di cosa si occupa in particolar modo Assofranchising? Assofranchising ha il compito di tutelare appunto il sistema di franchising, perché affiliante non può vivere senza affiliato e viceversa. Quindi è un gioco forza occuparsi di tutte e due. Ma noi abbiamo come associati, come iscritti, come soci, i franchisors, quindi i marchi che fanno franchising. I franchising, i punti vendita, sono normalmente iscritti alle associazioni commercianti locali, laddove evidentemente ci sia la possibilità di averli come soci. Noi curiamo la parte, diciamo, del cosiddetto inizio dell'attività, lo start-up. Quindi diamo consigli perché e come si debba fare un'attività di franchising corretta. diamo tutti i consigli di tipo legale che sono necessari e soprattutto diamo un segnale al mondo che vuole cercare un'affiliazione commerciale che i nostri marchi sono marchi che vanno bene, cioè che noi abbiamo controllato. Perché, come questo è normale, in tutte le attività commerciali del mondo, insomma, ci sono i molto buoni, i buoni buoni, i meno buoni e proprio quello che non è buonissimo. Ok, però usando sempre l'eufemismo attraverso il buono. Sì, sì. Lo stavamo vedendo proprio anche dalle immagini che cortesemente la nostra regia proprio ci ha mostrato. Eravamo proprio sul sito di Asso Franchising ed è uscito relativamente da poco l'ultimo rapporto di Asso Franchising, ovviamente relativo all'anno precedente, al 2019, che segnala comunque una crescita del settore con alcune insegne in particolare che hanno giocato una parte importante e poi con il ruolo anche dell'estero che è sempre di primaria rilevanza. Ci puoi illustrare un po' quali sono i principali dati emersi da questo ultimo rapporto? Guardi, noi facciamo questa rilevazione del settore e quindi dei dati che attengono al settore del franchising da molti anni. Quest'anno l'abbiamo ancora più focalizzato e qualificato, diciamo, questa rilevazione, che evidentemente viene fatta con un supporto esterno che ci aiuta a fare, che però è in stretta correlazione e relazione con i nostri marchi, logicamente, i quali poi danno loro i dati del settore. Devo dire che in questi anni abbiamo visto una crescita persistente del franchising. Questo forse è il dato, secondo me, più significativo, cioè il franchising anche nei momenti di forte crisi ha tenuto molto bene. Oggi stiamo vivendo un momento drammatico. Infatti, poi gliel'avrei chiesto. E poi arriviamo a questo. Ma non dimentichiamoci che abbiamo vissuto una lunga crisi dal 2008 al 2014, economica e finanziaria, che ha inciso fortissimo sul piano economico. Eppure il franchising ha tenuto anche in quegli anni i dati complessivi, numero dei franchisors, giro d'affari, numero dei franchisi addetti al settore, è stato sempre percentualmente sopra la linea di demarcazione sotto lo zero. Quindi, fantastico. Vuol dire che il sistema funziona. Ed è semplice che funziona. Perché? Perché il franchisor, l'affiliante, diciamo il marchio, è una tutela per il potenziale affiliato. Cioè, uno si allea e si mette insieme a qualcuno che ha già sperimentato un sistema sul mercato. Quindi, i rischi sono decisamente inferiori. Gli investimenti in linea di massima non sono straordinari. Quindi, i rischi di un default si azzerano o perlomeno diminuiscono in modo significativo. Questo è il primo significativo punto. C'è poi un punto, secondo me, che è un aspetto importante. I settori nel mondo del franchising. C'è uno spettro enorme che va dalla ristorazione ai servizi, dalla sanità all'assistenza. C'è di tutto. Noi ne contiamo più di 30 di settori nel mondo del franchising. Chiaramente ci sono, a secondo delle annualità, settori che si innalzano e settori che si abbassano un po'. Durante il periodo della crisi precedente, l'immobiliare ha subito una forte caduta. Subito dopo c'è stata una risalita straordinaria. Adesso, e poi ne parliamo quando approfondiamo più il momento di crisi economica che stiamo vivendo, ci sono settori che stanno prevalendo e altri che sono un pochettino più in difficoltà. Ecco, mi ha proprio fornito l'aggancio perfetto. L'emergenza sanitaria, il lockdown, ancora l'incertezza che ci contraddistingue, sicuramente avranno avuto un impatto anche nel settore. Ecco, quali sono magari le insegne, senza magari andare proprio nel nome dell'insegna, ma i settori di riferimento che hanno tenuto e gli altri che invece hanno avuto maggiori impatti negativi. E poi le comincio a rilanciare anche cosa si può fare però per tutelare il settore e il mercato. Guardi, la domanda mi piace molto perché mi dà la possibilità di dare un segnale importante. Noi non siamo… essere soli nel mondo porta solitudine e non porta risultati. Quindi noi siamo in… c'è un'associazione autonoma, indipendente, però siamo collegati a una grande confederazione che è la Confcommercio, che è la confederazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle attività, eccetera, eccetera. Molto bene. Durante il periodo di lockdown, durante il periodo comunque forte, diciamo, di questo inverno, di difficoltà, abbiamo avuto un fortissimo supporto da parte di Confcommercio, che ha non soltanto vigilato, tutelato, controllato quello che il governo emanava e soprattutto quello che diceva e quello che poteva effettivamente realizzarsi, ma ha dato un supporto forte perché noi potessimo informare i nostri soci in via diretta di quello che potevano e non potevano fare, potevano e non potevano avere. Questo è un dato molto importante che fa sì, spiega anche l'opportunità di stare collegati con un'associazione di settore perché, insomma, vicino alle stanze dove si fanno le attività che portano poi alla crescita o meno di un settore, ci possono stare quelli che ci possono stare, non è che tutte le aziende hanno la possibilità di entrare evidentemente in quello. Quindi questo è un punto decisamente molto importante. Settori che hanno avuto crescita, ce ne sono stati, il GDO, il grande distribuzione, è lì da vedere davanti a tutti, abbiamo avuto un bel avanzamento anche nel settore dei servizi, l'immobiliare che se ne possa pensare anche nel periodo di chiusura, diciamo come mai non potevano andare a fare le visite nelle case per farle vedere, beh, oggi ci si attrezza evidentemente anche con altri mezzi e quindi questi mezzi sono stati utilizzati, questi sono momenti di crescita importanti. La ristorazione ha avuto il suo momento di calo, abbiamo capito tutti, perché diciamo che sono salite anche alcune attività che qualche volta noi consideriamo un po' marginali, ma però quelle che sono legittimamente autorizzate, il Comprooro per esempio, se sono legittimamente autorizzate si possono fare e funzionano, insomma. Servizi, comunque l'ho detto, sono andati piuttosto bene. Servizi, si intende anche servizi alle persone, spedizioni, insomma ci sono aziende molto forti che sono riuscite comunque a galleggiare perfettamente. E c'è un fatto secondo me che va anche tenuto bene nel profilo giusto, il franchising deve essere visto come un momento di aiuto e di supporto ed è quello che noi abbiamo chiesto al governo di fare. Quindi nel rapporto con le istituzioni siete attivi con un dialogo aperto. E poi abbiamo chiesto due cose di una semplicità totale. Carissimo governo, qui non c'entra il fatto politico, c'entra un fatto tecnico. Se vuoi che questo settore sia come effettivamente può essere un momento di rilancio, cioè più la gente perde il lavoro, anche la gente di alto, di alta qualificazione professionale e più c'è possibilità anche per il franchising, perché se un dirigente non giovane e non vecchio, più giovane che vecchio viene lasciato a casa da qualche parte, tra la buona uscita, la possibilità eccetera, di avere anche qualcosa di suo, può mettersi di nuovo in pista a fare l'imprenditore, perché fare franchising vuol dire fare l'imprenditore, ha una condizione. Facilitazione assoluta, burocratica di tutto ciò che sta intorno a questo, se no la burocrazia ammazza. Ecco, e lo sappiamo, quindi questo è un punto chiave. E un supporto reale, cioè se io voglio mettermi in campo, sono un bel signore che ha anche qualche disponibilità eccetera, però quando vado in banca a chiedere 30 mila euro, mi chiedono anche di mettere la mia casa a repentaglio, beh ci siamo capiti insomma, adesso sto esemplificando con degli esempi che sembrano banali e sciocchi, ma non è così, bisogna assolutamente semplificare le cose e allora ci sarà sviluppo. Prima abbiamo parlato di un 7% totale di impatto del franchising sulla distribuzione, ma questo può crescere esponenzialmente, perché in Francia deve essere il doppio, perché in Germania deve essere il triplo, con minori numeri peraltro di franchisor, perché in UK, certo, tutto il mondo con lo sassone è molto portato a questo, è il triplo. Non parlare degli Stati Uniti dove quasi il 60% del totale del sistema distributivo negli Stati Uniti e fatto in franchising, compreso le banche. Aspetta, 60% a 7%. A 7% c'è una bella differenza. E questo quindi è un richiamo anche ai commercianti diciamo tradizionali, non abbiate paura di mettervi in franchising, non perdete la vostra autonomia, semplicemente acquisite invece delle opportunità per avere meno rischi e potete muovermi, siete degli imprenditori autonomi, non è che uno è un dipendente del franchisor, assolutamente, ha una sua SRL, una SAS, una SBA, fa quello che vuole, ci sono molti franchisee che hanno delle fortune importanti, quindi è quello che si deve fare. Beh, questo è anche un appello che a questo punto rivolgiamo anche a coloro che effettivamente, e sappiamo, nel settore del commercio hanno avuto grosse difficoltà, proprio perché si sono trovati da soli, effettivamente l'opzione del franchising può essere un'alternativa per portare avanti il proprio business, per essere sempre imprenditori, ma avere magari maggiori tutele alle spalle, oltre che un'associazione di categoria che effettivamente fa sentire giustamente la propria voce. Un altro tema sempre collegato a noi, alla situazione che stiamo affrontando, riguarda l'e-commerce, perché sappiamo che durante proprio il lockdown, ma ancora le numeriche rispetto al ricorso all'e-commerce stanno crescendo in maniera esponenziale, molte realtà stanno cercando di creare delle strutture di e-commerce anche al proprio interno. Questo, che tipo di conseguenze può apportare, e come si rapporta il mondo del franchising al fenomeno e-commerce? Guardi, il fenomeno e-commerce nel franchising è vissuto molto bene, mentre è vissuto un po' meno bene nel sistema distributivo in generale, diciamo il negozio di tipo tradizionale, un po' ancien regime, vede il sistema dell'e-commerce come un pericolo, una concorrenza, o qualcosa che non lo aiuta, non lo supporta, invece il mondo del franchising lo vive molto bene. Perché? Proprio perché c'è un sistema di collegamento e di rete, che quindi è basilare anche per questo tipo di sistema. Secondo, i grandi marchi, e non solo i grandi marchi, anche i marchi più piccoli, i medi, si sono attrezzati perché ci sia la possibilità di fare le vendite passando dall'e-commerce e dando poi il prodotto, o naturalmente facendolo recapitare, sullo stile di importanti marchi che non citiamo evidentemente, oppure andando a prenderselo nel negozio. E nel negozio comunque, qualora tu abbia voglia, hai anche la possibilità di non portare via nulla, di guardare, di provarti le cose, parlo per esempio del settore dell'abbigliamento, ma non solo di quello dell'abbigliamento, e dando anche delle opportunità di tipo economico, scontistiche, facilitazioni e quant'altro, al consumatore per poter utilizzare. Oggi più del 15% dei nostri marchi labora perfettamente in e-commerce, e questo naturalmente è destinato a salire, a crescere, ma non abbiamo nessuna paura di questo, anzi, ci mancherebbe altro. Tutto ciò che serve a fare business corretto nel rispetto del consumatore, cioè di noi stessi, perché poi alla fine siamo noi, che ci muoviamo, che scegliamo, che guardiamo, che vogliamo, va tutto bene. Lei mi ha cortesemente passato questa palla, diciamo, che io prendo al balzo, di un fatto culturale. Cioè la gente, in particolare il commercio tradizionale, devono capire che non si può oggi, è sempre più difficile oggi pensare di impiegare capitali importanti, pagare affitti straordinari, mettere risorse per comprare la merce, renderla quando non l'hai venduta tutta, cioè c'è un investimento importantissimo. Il sistema del franchising, invece, facilita tutto questo. Molto banamente il reso non viene pagato, è un conto merce. Durante il periodo del lockdown, i francesi hanno dotato, nei confronti delle loro reti, delle provvidenze straordinarie. Non ti faccio pagare per un lungo periodo l'affitto, non mi paghi i fee d'entrata, ci mancherebbe, non mi paghi le royalties. Ma dove si trova una cosa di questo genere? Questo perché c'è comunque un polmone finanziario che aiuta. Quindi andiamo su questa strada, che è una strada corretta. Mi sembra un appello che possiamo assolutamente sottoscrivere. E riguardo più in generale al tema dell'innovazione applicato al settore del franchising, quali potrebbero essere dei cosiddetti next step, pardoni sempre un po' questi anglismi che vengono utilizzati, per poter andare avanti, fare appunto dei passaggi ulteriori? Guardi, ho parlato prima di una trentina di settori. Alcuni sono evidentemente un po', non dico obsoleti, ma un po' già a capienza massima, e altri evidentemente hanno ancora tantissimo da sviluppare. Nel settore, per esempio, delle energie rinnovabili, si sta muovendo un mondo del franchising che è estremamente interessante. Non cito nomi. Nel settore, noi oggi siamo contornati da una Milano meravigliosa, con dei palazzi straordinari, dei grattacieli di grande scintillio, anche così tecnico. Chi pulisce tutti quei vetri? Allora c'è per esempio un franchising simpatico, il nome non si fa, che è specializzato in acrobazie per fare la pulizia di queste cose. Ma insomma, la fantasia si sviluppa. Tra l'altro, realtà che poi si sono anche recentemente quotate in borsa, quindi con anche un peso specifico, anche dal punto di vista di capitali, di un certo... Non solo, e non dimentichiamo che, per esempio nel campo della ristorazione, noi abbiamo tante possibilità di esportazione all'estero di nostri marchi. Cioè sono 10.000, 11.000, non di più, i punti vendita di marchi italiani all'estero. sono pochi rispetto alle potenzialità. E' pur vero che nel mondo della ristorazione, per noi, ogni pizzeria è diversa dall'altra. Siamo artefici di una straordinaria possibilità di offerta, questo è logico, insomma. Però, dico pizzeria per dire un esempio, o ristoranti, insomma. Però c'è la possibilità di replicare queste cose e di farlo molto bene. E soprattutto bisogna avere la forza e il coraggio di andare anche fuori. Allora, anche lì, lo Stato, il Governo, le istituzioni, aiutino, diano una mano. L'Istituto del Commercio Estero, da un, due o tre anni a questa parte, sta sostenendo i nostri sforzi per partecipare a fiere internazionali, che a me si sono bloccate in questo periodo, chiaramente, per avere un sistema Italia unico che partecipi e si presenti a queste manifestazioni, con dei marchi che vogliono coraggiosamente essere presenti in quei paesi. E noi lo sappiamo, perché, insomma, anche l'ultimo grande evento a cui abbiamo preso parte, anche il CES, il Consumer Electronic Show di Las Vegas, ha visto proprio la partecipazione insieme a... E c'è proprio di una presenza italiana che ha fatto sistema e per cui è riuscita anche a partecipare ad una fiera di questo tipo. Ci auspichiamo che ovviamente fiere e convegni possano riprendere ad essere fatte in presenza. A tal proposito, anche nel vostro settore, alla fine delle mese di ottobre, dal 22 al 24 di ottobre, si terrà il Salone del Franchising, un appuntamento annuale che quest'anno si svolgerà in stream, di cui Asso Franchising è main partner. Quali sono gli obiettivi, in un minuto che ci resta, che vi prefiggete per questa anomala, magari, edizione? Guardi, è un'anomala edizione e proprio per questo è ancora più entusiasmante. Stimolante. È interessante e stimolante, perché serve a dare educazione di sistemi nuovi sia alle aziende che a noi stessi. Quindi con il coraggio, anche devo dire, gli organizzatori, Fandango, per esempio, che è uno degli organizzatori grossi di questa fiera, si sono messi su questo piano. Il messaggio è molto semplice. Il franchising è un mondo bello, e qui non è soltanto l'entusiasmo di chi naturalmente presiede questo mondo, ma è la realtà, perché è fatto da giovani e da donne. Oltre il 90% di chi opera nel mondo del franchising, dipendenti e non, non supera i 45 anni di età. C'è capito il giovane? Mi piacerebbe rientrare in quella categoria. E il 40% quasi del mondo del franchising, e soprattutto dei francesi, è gestito da donne imprenditorialmente. Questo è un importante segnale. E non sembri che, nel mondo della... No, 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 no. In maniera trasversale. In maniera trasversale, che vanno su tutti i settori e lo fanno con una grande competenza, una grande capacità, che è tipica poi della donna. E qui mi lascia effettivamente, insomma, noi donne poi abbiamo anche, a capo della nostra, a dirigere la nostra TV, cioè una donna, quindi ovviamente io su questo tema non posso essere super parte, sono un po' di parte, effettivamente lo ammetto. No, è sicuramente importante quello che dice, perché sappiamo quanti studi hanno parlato anche dell'impatto sul contesto femminile, anche dell'emergenza sanitaria, di tutte le iniziative di cosiddetta diversity and inclusion che tante grandi aziende stanno facendo, invece ci sono settori in cui è già realtà ed è importante farlo presente. Io ringrazio il presidente Bussoli per essere stato qui con noi, per aver inaugurato anche questo nuovo format, che speriamo sempre più ricco, di interventi, quindi a questo punto anche invitando le realtà singole delle franchising per raccontarsi, perché il racconto anche dell'impresa è sempre anche molto stimolante e accattivante. Io la ringrazio, guardi se ce ne sarà occasione a raccontare anche qualche esempio di aziende che hanno fatto delle bellissime performance e delle fortune importanti, sarà un piacere. Grazie per il vostro invito. Molte grazie. Grazie ancora al presidente di Assofranchising per essere stato con noi. Non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV. Grazie per averci seguito. Grazie. 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 Grazie.